Di nuovo la polizia giudiziaria in azione negli uffici di SM Voghera, come noto al centro di un'inchiesta legata a presunti concorsi truccati risalenti alla 2019 nella società controllata Vendita e Servizi, ma salita agli onori delle cronache anche per una serie di rivelazioni clamorose per certi versi da parte dell'attuale amministrazione contenuta in un rapporto interno, meglio noto come due diligence ribattezzato dallo stesso presidente Sergio Bariani, operazione Verità. Verità, per inciso, sull'operato della precedente dirigenza nelle figure dell'ex presidente Deglio Todeschini e dell'ex direttore generale Piero Mognaschi. Da quanto trapelato finora, al centro delle attenzioni degli inquirenti ci sarebbero proprio i documenti relativi al dossier voluto dall'attuale CDA ed affidato a due società di consulenza esterne. In questo caso, sotto la lente del PM Paolo Mazza, sarebbe finita un'altra assunzione, dopo quelle contestate nella cosiddetta concorsopoli, indicata come sospetta dallo stesso dossier, quella di Elisa Gamalerio, la stessa dipendente di Vendita e Servizi, che era stata, sembra volutamente, almeno così emergerebbe dalle intercettazioni della procura, esclusa dal famigerato e contestato concorso per assumere 13 impiegati al centro della già nota inchiesta. Secondo le indiscrezioni trapelate, sembra che la stessa dipendente avesse poi fatto causa da SM Vendita e Servizi, ottenendo un risarcimento di oltre 170.000 euro, venendo però poi assunta direttamente dalla holding. Insomma, un quadro intricato nel quale ha provato a mettere ordine l'operazione Verità voluta da Bariani e nel quale ora anche la magistratura vuole vedere chiaro, anche perché, oltre alle questioni delle assunzioni sul filo del rasoio, ce ne sono altre, portate la luce nelle 200 pagine di indagine interna, per esempio l'acquisizione di un terreno accanto al centro multiraccolta, che sarebbe dovuto servire a fare uno svincolo sulla tangenziale, poi mai realizzato, e il recesso anticipato dal contratto con la società che gestiva il biodigestore, Altra faccenda che, secondo quanto emerso finora, sarebbe costata da SM quasi 2 milioni di euro. Un terzo fronte di indagine riguarderebbe poi i presunti favoritismi nel pagamento delle bollette per i clienti e amici che non pagavano. Insomma, si sarebbe, secondo queste accuse, chiuso un occhio.